Buongiorno, sono Loris del colorificio Aston. Spesso ci viene chiesto se esistono dei prodotti che consentono di verniciare direttamente sulle piastrelle. Ebbene sì, questi prodotti esistono. È un prodotto a base acqua, quindi completamente in odore. Potete fare tranquillamente anche in inverno, per dire, se non c'è possibilità di tenere aerato il locale. Qualsiasi tipo di colore fattibile con il tintometro. Di uso molto semplice, ripeto, a base acqua. Viene aggiunto, non è un prodotto catalizzato, quindi che richiede dei tempi di lavorazione veloce. Viene aggiunto un attivatore che fa partire tutto il processo che rende questo smalto utilizzabile sulle piastrelle. È un prodotto che si può applicare anche per terra, quindi perfettamente capestabile. Se avete qualche dubbio sull'applicazione, che sia qualcosa di complesso, vi dico subito di no. Ovviamente bisogna seguire le indicazioni che saremo felicissimi di darvi, se volete cortesemente, venire a trovarci per sul nostro punto di vita. Oltretutto, questo è un prodotto Made in Italy.